Dai per Rafam i ragazzi con ste tribe In realtà è forte anche Curator Con Draghi, Murloc, Robot Sono i migliori C'è anche elementali Dai prendiamo Curator Sono le migliori Sono le migliori tribe per Curator queste Vi dà sempre delle vibes buone ragazzi Usare questo eroe Perché quando era uscito BG Era tipo l'eroe più forte Quindi è un po' di nostalgia Vabbè qua si piglia questo Che prende più due attacco Non li veleremo sicuro In realtà ragazzi il top con Curator È fare tipo il 4-4 Taunt La 2-5 che pompa i draghi Avete presente la 2-5 quando fate una stat sui draghi Che dà più 1 vita? Quello funziona anche con le amalgame E se poi lo fate sull'amalgame Funziona pure con il 4-4 Taunt Quindi funziona tutto in combo È figo Proviamo La prima BG era solo amalgama for the win Vero infatti è per quello che la Curator era più forte Però comunque le tribe sono giuste Possiamo far bene Non dobbiamo superare il livello 4 con questo eroe comunque Solo in late game Molto in là C'è tutto C'è tutto prima Fa facile level Aspetta un attimo Se il video ti sta piacendo Ricordati Iscriviti al canale E un click Ci metti uno secondo Grazie Questo appena 2 attacco Costo 7 4-6 Taunt Pesca una bestia Un robot E un Murloc Dal tuo mazzo Mamma mia Qui andiamo ancora più indietro Si giocava nel Murloc Pala Se non sbaglio Quel pezzo Era fortissimo Era fortissimo Il Curator tech Che ti pescava 3 Ti dava la linfa Fino ogni mid si giocava E mi sembra che solo pala era Era competitivo Fatta qui Va bene Ragazzi non è bello Far saltare il Drago Ma per il 4-2 Il 2-4 Questo è altro E come faccio Devo comprare Sto turno Sono troppo grossi Insieme Ora bisogna trovare La 2-5 Che quando si pompa Un Drago Prende più 2 di vita Più 1 di vita Qualcosa del genere Però insomma La base per Elemental Ce l'abbiamo Amalgadone Mexna Spola Mortale Madonna Il periodo delle Mexne Con Reborn Non era neanche male Quel metodo Era divertente Anche se finivi spesso Con le Mexne Nooo Ma era il 50% Quanto è che ho attaccato Prima io Si Vabbè Abbiamo perso In ogni caso Non è vero Ma veramente Dato questi Incredibile Me li sto scegliendo I pezzi Allora Beh non frizzo altro Seppur questo non è terribile Cerchiamo un altro Elemental Un'altra 2-5 Un buff Sulla amalgama Pazzesco Ora dobbiamo solo trovare Elementale 4-4 Il non elementale Insomma Il Taunt 4-4 Com'è che si chiama Quel pezzo Taverna 4 4-4 Taunt Il Master of Maestro Il 69 uscito Si chiama Quindi tu una pensi Che Grand Tournament Sia la peggiore espansione Mai fatta C'era il Mysterious Challenger In quella espansione Ragazzi Era tighissimo Il Mysterious Challenger Jack Dat B Grazie del quinto mese Thank you Come ha fatto il pattone Io prenderei il vero spiro Alla fine questo non è malvagio D'accordo Apportiamo qualche miglioria Lo vendiamo Prun dopo Ci sta Con il level up di ora Ci sono 1000 card Tipo Challenger Ai tempi era una cosa Uffo Era il mazzo Good cards Ragazzi Era Allora Secondo me Quali sono i mazzi Più divertenti Da giocare in assoluto I mazzi Good cards C'era la fine Dove il mazzo Non ha un archetipo Ma sono tutte carte Messe lì insieme Che performano Un po' da sole Il Secret Paladin Più o meno Era questo mazzo qui C'era Loteb Dr. Boom Ragnaros Tyrion Più il Mysterious Challenger Chiaramente C'era Shredder Tutte carte a caso Che insieme Non potevi mettere In qualunque mazzo Funzionavano È divertente Da giocare in quel mondo E queste cose succedono Specialmente agli inizi Di giochi di carte Dopo man mano che esce È difficile mantenere quella Fare in modo che anche dopo Quei mazzi good cards Possano funzionare Oh mio dio C'è la tripla di questo Allora Si fa level up Si fa questo Si freeza la tripla Direi Anche se ovviamente Prendere il maestro della realtà È figo Ma magma lock È ancora meglio Quindi facciamo così Siamo così Dai però Sta doggiando i buff Sta doggiando i buff E poi Va preso anche 4-1 Ma no Il sicuro in realtà Non saprei se lo voglio prendere Perfisico quasi più L'emissario del crepuscolo Comunque facciamo la tripla E poi vediamo Magari esce Bran Beh comunque qua Sembra che ce le stiamo Scegliendo le carte All'inizio di Airsten Erano tutti così mazzi Endlock esempio perfetto Endlock Sì sì è vero Infatti in Marvel Snap Ragazzi i mazzi Funzionano Funzionano così Perché agli inizi Agli inizi fai delle accozzaglie Dopo Dopo tendono a uscire Generalmente Archetipi Che secondo me Ristagnano un po' il tutto Non so se qualcuno di voi Gioca a Yu-Gi-Oh! Edison Però io gioco a Edison È il mazzo che mi diverte di più E va a YouTube Perché su tutte carte Mono Insieme È divertente C'è Gord Truppa della carta Kaius Comunque Qblock Ragazzi era un mazzo bellissimo Non vi permetto Di insultarlo in chat Qblock È stato il mazzo più skillato Di sempre Mi ha distrutto Questo Forza di rimanere Al lab Nella Kaius Ora scuio su BG Questa partita Sto sculando È vero Adesso però vediamo Fino a dove arrivo 4-2 Bran O piccolo rag Ragazzi a me sembra Bran sembra insano Onestamente Con Curator E quei Murlock Io prenderei Bran qui Molto meglio di rag È vero che ho questo dorato Ma il 4-9 Secondo me salta Perché io voglio Che pompi le amalgami Quindi prenderei Bran Poi prenderei Anche questo E rollerei E prendo lui Alla fine sono stats Quindi facciamo Jack Potrei fare anche il 3-8 Alla fine le stats Che si prende Lui sono permanenti Però Dobbiamo Bran Quindi prendo questo Tanto possiamo fare Anche i 2-4 Sono gold Pure questi Non so se vogliamo Frizzarli Merda ragazzi Sto pensando di fare Una follia Se io prendo questo Riesco a fare i bad Di turno dopo E le separo Senza goldarle E soprattutto Fare una cosa del genere Avrebbe senso Non credo che ce l'hanno Onestamente Bibletap 100 Di la verità Sei passato All'urde Dalla madonnina Cuore rosso Facina Che fa l'occhiolino E mostra la lingua Grazie Strappa Di 100 bits Calma Che qua Ho fatto in tempo A succarle No Ho fatto in tempo Ancora a succare Ragazzi Stavo per fare La memata La memata Non l'ho fatta Dai Prendo loro Roll Chissimi questi Allora Via Via Questi rimangono Si pompano questi E Facciamo lui Allora Facciamo Tutto Il 3-3 Si ciula anche il buff Un classico Prendo la tazzina Questi qua Non sono neanche terribili Danno i scudi Facciamo lui Chum 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 dopo Facciamo la tripla Possiamo fare anche Sto turno No Sto turno è presto Facciamo un turno dopo Facciamo questo Andiamo un roll Dai Roll Tazzone Ciò che è Chum 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 Ma sta a vedere che sto qui È un bidone in realtà Se sto potenziando la sto party elemental Non so bene il perché Probabilmente perché non mi aspettavo Che sarebbe uscito Bran Chiaramente mi si è aperto un'altra via con Bran E questa è la veramente forte Cioè sta dando un'infinità di vite Un graio non è neanche così male avere tripla cozzaglia Che non ce la facevo in tempo Per farlo ragazzi bisognerebbe riuscire a fare il triple a 6 E prendere la tipa lì Greta Ha senso fare la triple a 6 O vogliamo fare il 5 Cosa potremmo pensare di prendere al 6 Che effettivamente vale la pena prendere A parte la mantide chiaramente La mantide è grossa Theo Ok mi hai convinto Cazzo però c'è il modulo C'è il 4-4 Holy shit Triple 5 ragazzi è troppo forte sta roba Ma è troppo grossa sta cosa qua Non posso non prenderle C'è il modulo c'è questo Che si pompa Quindi facciamo la tripla Prendo Magmaloc Niente Magmaloc C'è Murozonde Alla Furion Prende più 3 più 3 Bidonazzo Murozonde ero contro Barov Barov aveva Oh aveva Magmaloc Holy shit La mia Magmaloc No No Allora vabbè Vediamo questo Vediamo anche questo Perché boh ci piace farlo Alla fine questo è stato anche buono Quindi prendo questo Prendo il modulo Il modulo va qui Poi faccio Questo E' già diventato 15 15 Neanche questo Prendo anche il 2-6 Me lo tengo in mano Ops Non ho preso l'ultimo gemme Ma che senso ha farmare le scimmie Cioè Noi qua vogliamo Prendere un altro 4-4 Baffare tutto E' chiaro che se non esce niente La scimmia me la compro anche Però secondo me ragazzi Mi sono preso questo Ma magari non ci stava neanche Magari era meglio fare 3 roll Questo è per il late game Un verino per il late game Non so neanche se servirà Questo è grosso Con uno stats qua 4 gemme Due volte Questo si pompa a un finito Lui non lo prenderei Roll Un'altra 2-5 Oddio la vogliamo Prendi si Prendo anche l'1-1 Allora via sta qui che è un bidonazzo Facciamo questo Prendo l'1-2 Ho l'1-4 L'1-4 mi da roll Questo mi da 2 gemme E' uguale Meglio l'1-4 Teoricamente 3-3 Allora è l'ora di far saltare lui 3-3 Holy shit Fortissimo Wow Leggendaria Prendete un bel respiro Wow è troppo forte quel 3-3 A sto punto ragazzi Faccio così Sotterriamo le ossa Perse dei ricordi Deo è diventato 80 Eh ma che Bella Mando Grazie del nono mese Mando di parola Aveva detto Grazie del Prime Bello ragazzi Questo 4-4 era veramente insano Beh l'avevamo letta che era forte a giocare draghi elementali Combo incredibile Combo incredibile Ma è cresciuto così in fretta Eh crescono così in fretta Questi signori della realtà ragazzi Quasi se ne esce un altro me lo piglio Però dovrei vendere una di loro Quindi probabilmente solo se triplo questa prima Questo lo voglio Oddio sì Hanno un botto di vita Ci sta dall'attacco Abbiamo tutto Mamma mia Roll Po' di vita Ah ragazzi Prendo tutti questi pezzi Che è Quanto è illegale Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il disturbo Una gemma prende più 10 più 10 Signore della realtà Ma allora Sto così Forse Forse veramente devo Cioè allora Qua dice Subman dice La cosa importante E' non triplare le smuggler Che L'ho detto inizialare Di non chiamare in inglese Però Presumo siano queste Smuggler Traduzione di trafficante Dopo che un tuo drago Quindi se le si Unisce Probabilmente C'è meno scaling Qua Dell'amalgama Cioè il discorso è questo In realtà le amalgame Scalano uguali E lui però Prende la metà dei buff Perché Sono unici Anziché su due Separati Però si libra Uno spot Quindi C'è uno slot Nella build Qua sto succando Perché mi ha messo I liroi Oh Mi ha anche tradato Il più forte Lo scudo dal draghetto Brava Il draghetto di nuovo Bravissima Ok Perdo lo stesso Ragazzi Però Vabbè Però prendo meno danni Questo maledetto Con l'iroi Devo mettere tanto Tutto il resto Secondo me Ragazzi è arrivato Il momento Di triplarla Il motivo È che Hanno già Sufficiente vite E mi si libera Uno spot Magari faccio Prima il 3-1 Prendo le due gemme Gli le tiro Poi triplo lei Perché triplando Alcing posso trovare Le mantidi E poi alcing posso trovare L'iroi Che è quello che ci serve Ora per chiudere Sta maledetta build Quindi Stiamo così È anche pulito Col gold Questo direi Che è sufficientemente Grosso E anche scalerà Un po' Più lentamente Ci va bene Ma io preferisco Trovarmi Una mantide Niente mantide Anderò Ciarca Prenderò Il ciarghino Per questo turno Adesso Dobbiamo Ciccare I liroi Oltre che Ovviamente Ragazzi Ai veleni Perché Questo 56 128 Ha bisogno Di un Poisonous Tra l'altro Anche Nadine Era forte Da scudo A questi Scusa Lui Ha più amalgame Di me Mi ha rubato Ha deciso Di fare La bead curator Quindi Se tu riuscisse A trovare Un murozonde Posso riprendermi Le mie amalgame In realtà Il murozonde Più che altro È per rubare Nadine Però si Avrei altre amalgame Non so se Turno 13 Me ne faccio qualcosa Che non prendo niente Amico di un amico Cazzo qua va Comodo Oh 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 mio Dio Teotar 2 2 2 2 2 2 3 Dai Ha fixato Sto prendendo Veramente Il 2 3 Mentre non ci sta Prendendo il 2 3 Roll Questo invece Gigante Vogliamo un altro 444 Too late Forse Oppure Prevendo Teotar Vai Mi è già diventato Che cazzo è No Ho detto 140 40 ma è impossibile Quanto è arrivato 45 45 Mi ha tradotto Il più grosso Però Eeeh 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 Questo Velenoso 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 Evite Ok Quell'attacchino Questo è buono Ti ripaga pure Non è buono È illegale Botto d'attacco Un botto d'attacco Oh 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 Eeeh 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 Comunque toglie due scudi La mascotte Eeeh 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 Robot è un extra Cioè Tribe perfette Troppo illegale Questo Mutanus Eeeh Questa è roba forte Qua sarebbe Sarebbe il turno Giusto per far saltare Bran In realtà E mettere Dei neroi Eeeh Eeeh Non so La tazzina Magari non la prendiamo Oddio Questo si piglia Eeeh Eeeh Eccolo Allora via Bran Anche questa si poteva far saltare Ah Prendo l'Iroi Facciamo un altro roll Eeeh Magari vendo la 9.15 Oppure faccio il 2.3 su questo E faccio salire il signore delle realtà Però secondo me Anche il dottor Cassabomba Non è male Questo può spaccare l'Iroi ragazzi Sgravato davanti Non lo voglio togliere questo Rollerino Niente Vogliamo la 9.15 Teniamo la 9.15 Che ha taunt Via Eeeh Jenkins Antio auguri al nostro avversario Questo meglio Più attacco del 2.3.2 Adesso Avendo veleno Non che Non penso l'Iroi Abbia Abbia più di 232 di vita Messo l'Iroi tauntata Oh Mi ha cecchinato Lo scudo Ma Non credo dopo abbiano chance Non so come faceva Avere quello 0.4 Ma Sto anche bene Sto bene anche senza scoprirlo Bene così Terzo primo posto di fila Questa volta con Curator Tra l'altro Partita bellissima anche questa Secondo me 104 7 8 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 20